La TPA Abitat si occupa di sistemi abietativi modulari mobili. Il nostro intento è quello di svincolarci dal concetto tradizionale di immobile, considerato o radicato ad un unico luogo, per produrre delle strutture che possono essere collegate già complete ovunque sia necessario stabilizzarle. Fra due anni noi ci vediamo con una serie di attività aperte dello stesso tipo in più posti perché quello che noi vogliamo realizzare è un progetto di fabbrica, un progetto che si può esportare fuori o in più posti in Italia.